Signori e signori, Bibi Berlandi, abbiamo bevuto un litrozzo di vino per cui siamo rossi. Guarda che schifo, pesci, abbiamo mangiato pesci, oleati, olio, pesci. Questo è l'uomo più brutto del mondo, l'attore cameriere è qua. Quando non ci sto alla fine di strozzo. Vabbè, caro Bibi, cosa bolle in pentola, tante cose. Torniamo, ieri abbiamo presentato i palinsesti della RAI, torna ballando con le stelle. Sarà un bel programma. E noi stiamo vedendo di organizzare una cosa molto bella per la prossima estate, che potrebbe essere una cosa... Dai, così, fuori dai palinsesti, non l'hanno detta questa cosa, ci hanno tenuto fuori. Va bene, e noi la pentola la facciamo molire. La facciamo molire, la facciamo molire e abbiamo una cosa musicale molto bella da fare, dove potrebbero venire in zaccogliandante, presentata da chissà chi, insieme a chissà chi. Va bene. Lasciamo a pulire. Dai, dai, dai. Adesso sono tutti i blog, quelli di tv, dicono cos'è, cos'è, Davide Maggio, Davide Maggio, Davide Maggio, hai capito cosa voglia fare? Adesso non la metti in giro. Questa la metto in giro, certo, la metto su Twitter, la metto su Youtube, la metto su Facebook. Come lo dici Facebook? Facebook. Alla Bolognese, la Facebook. con tutti. Vabbè, sei andato a vedere Vasco? Hai visto Vasco? Vado a vedere Vasco, vado a vedere Giovannotti, le vado a vedere tutti. Tutti? Mi diverto come un ragazzino. Eros, non l'hai visto? Eros. L'hai visto? Come no, ero vicino a te la sera. Ma porca miseria. Bravissimi, tutti bravi. Benedetti loro. Benedetti, benedetti ragazzi. Vabbè, vi salutiamo con una beduta del ristorante, piena di gente. Noi non ci caga nessuno qua in quest'angoletto, ma nel frattempo noi stiamo pensando a voi. A voi. A voi, che guardate la televisione e che potremmo fare. Una sorpresa, un caffè per me? Un caffè? Io torzo. Io voglio fare ballando con le stelle. Tu devi fare ballando come sta minca. No! Se vuoi fare ballando…